Il governo pensa di arrivare alle scuole, sarà possibile anche in campagna? Credo che sarà possibile per la fascia delle primarie e fino alla prima media. Ovviamente anche noi verifichiamo sempre l'andamento del contagio, però penso che possiamo essere fiduciosi anche perché, ripeto, noi abbiamo già vaccinato il 95% del personale scolastico, docente e non docente, quindi abbiamo creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Le ripeto, se avessimo avuto vaccino somministrabile anche a ragazzi sopra i 16 anni avremmo completato tutto il mondo della scuola, perché non c'è dubbio che questa è una priorità. Quindi anche da questo punto di vista siamo fiduciosi, però attenti. La linea della campagna è quella di sempre. Noi dobbiamo aprire tutto, ma per sempre. Non aprire due giorni e poi chiudere due mesi, perché questo sta portando l'Italia all'esaurimento nervoso. Questa è stata la scelta del governo precedente, la scelta delle mezze misure. Se noi avessimo chiuso l'Italia a ottobre, quando avevamo tutto sommato un mese di non grande vivacità commerciale, avremmo probabilmente parato allora la terza ondata. Comunque lasciamo perdere, questo è il passato.